con il Movimento 5 Stelle, adesso invece andiamo a presentarvi un altro degli schieramenti che sono presenti a queste elezioni regionali e che questa sera abbiamo qua con noi tre rappresentanti, tre candidati, Gian Mario Brenna, Diana Barigelletti e Marisa Cesana, loro rappresentano, sono tre dei sei candidati comaschi, la lista civica Lombardia ideale per Fontana presidente, quindi ovviamente avete già capito che rappresentano il sostegno al candidato presidente Attilio Fontana. Iniziamo da Marisa con un saluto e ovviamente una breve carta di identità, chi sei, cosa fai e perché Marisa sei presente a queste elezioni, tanto buonasera. Buonasera a tutti, io sono Marisa Cesana, 48 anni, sono un'imprenditrice, gestisco con mio marito uno studio medico a Erba, mio marito è primario della clinica Zucchi di riabilitazione e fisiatria e dal 2014, scusate, sono laureato in scienze motorie e dal 2014 al 2019 ho fatto l'assessore presso il Comune di Monguzzo, dal 2019 sono sindaco del Comune di Monguzzo. Ho deciso di candidarmi perché credo fortemente nel potere delle idee e nella capacità di fare la differenza. Da amministratore mi sono sempre posta al servizio dei cittadini, dedicandomi in modo costante e puntuale verso l'impegno civico che io ho preso. Facendo il sindaco ho legato ancora di più con il nostro territorio perché ne ho scoperti sia i pregi ma anche le problematiche soprattutto per i piccoli comuni che possono avere nella gestione dei diversi servizi. Ho deciso di candidarmi, mi hanno dato questa opportunità con la lista Lombardia Ideale Fontana Presidente perché credo che il Presidente Fontana sia una persona concreta e fino adesso abbia lavorato veramente bene. Il modello Lombardo è un modello virtuoso, è un modello che è consolidato non solo in Italia ma anche in Europa e quindi è giusto mantenere questo buon governo e dare la possibilità di continuare quei progetti che sono già sul tavolo e sono pronti a essere portati avanti. Quindi la continuità secondo me è un punto fondamentale per poter non perdere quello che i cinque anni passati è stato fatto, è stato portato avanti. Allora Marisa, uno dei sindaci che si presentano, ne abbiamo avuto già qualcuno anche in questi giorni, è certo che ovviamente fare il sindaco forse poi ti porta anche, cominciavi ad avere un contatto diretto col territorio, con la gente, con i cittadini e quindi ovviamente forse a capire anche di più. Che cosa può servire in questo caso per la Lombardia per rappresentare Como in regione Lombardia? Certo, allora una cosa fondamentale che ci tengo molto perché io facendo sindaco dei piccoli comuni vevo delle realtà diverse rispetto a comuni più grandi o comuni di provincia e un punto importante è la connessione dei trasporti tra i comuni più piccoli e in questo caso la provincia di Como perché purtroppo non tutti sono serviti in maniera adeguata. Diciamo così che a volte è proprio veramente difficile. Sì, sì, è veramente difficile proprio per noi piccoli comuni magari riuscire a raggiungere Como o Erba o altre località comunque vicine. Un altro punto che comunque parlando con la gente sollevano ed è un punto di attualità che tutti se ne parlano è comunque anche la sanità. Poi io lavorando dentro quindi mi sento anche chiamata a parlarne. La sanità sicuramente è uno di quei punti dove bisogna lavorare, bisogna sicuramente creare delle nuove possibilità. Secondo me è importante comunque ricordare che la regione Lombardia ha una sanità però di eccellenza perché le persone, la qualità delle persone che lavorano non è in discussione. Ciò dimostra che da tante regioni d'Italia vengono a farsi curare in regione Lombardia. Sicuramente ci sono delle lacune importanti e sono alla luce di tutti. Una di queste è il mancato ragionamento sul pensionamento dei medici di base e degli specialisti che non è stata fatta una giusta programmazione e soprattutto anche bisognerà rivedere sicuramente il numero chiuso delle scuole di specialità e delle scuole di medicina perché questo crea un grave disagio per poi tutto il sistema. Allora Diana, tocca a te, sentiamo la tua carta d'identità, la tua presentazione e perché la scelta di Lombardia Ideale di candidarti a queste regionali. Prego Diana, chi sei? Io sono Diana Barigelletti, abito ad Albese e sono madre di sei figli. La mia esperienza politica è nata da pochi anni, sono stata coordinatrice della provincia di Como per il partito di cui facevo parte prima, dal quale poi mi sono dimessa lo scorso anno quando abbiamo poi creato democrazia e sussidiarietà. Ho trascorso la mia vita a seguire i miei figli e quindi ho potuto toccare con mano quelli che sono i problemi che riguardano la scuola e diciamo così anche a livello sociale ma soprattutto a livello di sanità e di disabilità perché il mio secondo figlio è nato disabile e quindi sono 36 anni che occupandomi di lui visto che è nato disabile non è diventato poi. Sono 36 anni che mi occupo di lui e quindi ho avuto modo di constatare di persona quella che è l'efficienza della sanità lombarda perché nonostante le difficoltà tante e le necessità tante a cui ci siamo dovuti, che abbiamo incontrato, io mi sono resa conto che la Lombardia è veramente all'avanguardia sotto tutti i punti di vista e anche adesso nonostante le critiche che sono arrivate da tante parti, io devo dire che affrontare una situazione così improvvisa e inaspettata come quella della pandemia, io credo che l'amministrazione regionale lombarda abbia fatto veramente delle grandi scelte perché non è facile, è facile contestare, non è facile prendere certe decisioni, organizzare una popolazione così numerosa come la Lombardia, io credo veramente che mi sono candidata per questo proprio perché noi preferiamo essere sempre propositivi, cioè le difficoltà, i problemi vanno presi con realismo, contestare non serve, serve prendere atto della situazione e fare delle proposte, soprattutto impegnarsi perché criticare è facile ma poi mettersi, girare indietro le maniche e mettersi a lavorare non è la stessa cosa, siccome nella vita mi sono sempre dovuta così confrontare con tante situazioni, credo che sia arrivato il momento anche di farlo a livello politico perché è anche appassionante poter dire faccio qualche cosa per gli altri e non mi fermo a criticare. Chiaro, assolutamente chiaro, allora abbiamo sentito prima Marisa, adesso Diana passiamo a Gianmario, sentiamo anche te la tua presentazione, la tua carta d'identità ovviamente e Gianmario perché la scelta appunto di metterci il volto, il nome e faccia a queste elezioni regionali e ricordo ancora Lombardia ideale a sostegno di Attilio Fontana, prego. Fontana Presidente. Fontana Presidente, sì, sì, certo. Questa è la prima esperienza in campo politico elettorale dopo quella vissuta all'età di 31 anni, dal 75 all'85 come vice sindaco del paese dove sono nato e vivo, Motrasio, e con impegni di assessore era anche quella in assoluto la prima esperienza politica però mi ha dato una grande apertura verso il sociale, verso il paese, verso gli altri. L'anno scorso quando è stata costituita questa nuova formazione politica, democrazia e sussidiarietà ho facilitato e promosso anche questo impegno che ha assunto mio figlio di promuoverlo dopo esperienze precedenti ma a partire dall'inizio proprio e allora adesso è arrivato il momento di guardare alla regione, abbiamo approfondito e preso contatti con il Presidente e abbiamo illustrato a quella coalizione che il Presidente ha pensato di creare in vista del rinnovo dell'impegno politico per la regione Lombardia e abbiamo constatato che con questa coalizione i nostri principi di democrazia e sussidiarietà che già nel nome c'è dentro, verso quali realtà sociali e politiche guardiamo? Guardiamo al popolo, ai bisogni della persona, della società, abbiamo visto che un'analisi complessiva dell'operato di Fontana, Presidente uscente, rispetto al programma che si era dato ovviamente ci sono stati dei ritardi dovuti a mille problemi sociopolitici però abbiamo visto che sono state impostate tutte le cose più grandi, più importanti, nel programma poi elaborato e proposto alla coalizione che abbiamo fatto nostro è stato inserito anche una sommatoria meravigliosa dei principi nostri che sono basati sul proteggere la vita, la persona dalla vita, dalla nascita, dal concepimento alla morte naturale e poi ecco tutto il resto che in base ai valori della vita cristiana, la tradizione cristiana, cattolica del nostro popolo e se non è portata adeguatamente anche nelle scelte politiche i guai poi vengono al pettine e allora è stato accolto questo nostro fermo riferimento a questi valori tant'è che adesso quando uno va a esaminare il progetto politico per i prossimi cinque anni che proponiamo agli elettori c'è una grandissima attenzione alla vita, alla persona, alla famiglia, alla sussidiarietà. Ecco questo diventa per noi una forte motivazione prima di tutto per candidarci ma poi anche per proporre a tutti gli elettori di recarsi alle urne e coerentemente con i bisogni sociali e anche morali ed etici per un futuro radioso della nostra regione di partecipare al voto e di scegliere questa nostra formazione politica infatti un po' hai già anticipato quella che potrebbe essere l'altra domanda poi per chiudere il giro con Gian Mario Brenna, hai parlato appunto di questo voto e allora magari iniziamo da te Marisa per dare un riscontro anche e poi se volete spiegare potete approfondire anche voi perché dare la preferenza, i vostri nomi ovviamente potete anche mostrare ovviamente le schede, ci mancherebbe sì sì potete farlo tranquillissimamente prego Marisa. Bene allora io invito tutti il 12 e il 13 febbraio di presentarsi alle urne. Ricordiamo ancora Lombardia Ideale. Lombardia Ideale. Sì sì certo fallo vedere qua. Allora Lombardia Ideale io sono Marisa Cesana sindaco di Monguzzo l'importante è mettere una X sul simbolo Lombardia Ideale se condividete con noi i nostri ideali e mettere la preferenza Cesana. Ecco bisogna ricordare che è molto importante la preferenza mettere il cognome perché questo serve poi per il punteggio eventualmente dei voti e oltre alla scelta della lista ma anche della persona quindi è molto importante. Ecco perfetto fallo vedere ancora sì sì assolutamente sì questo hai mostrato perfetto è la lista è la lista civica che va a supportare Attilio Fontana come presidente e quindi ovviamente questo è molto importante da ricordarlo e da precisarlo. Diana prego tocca a te. Sì io sempre per la stessa lista Fontana mi presento come candidato perché nel nostro partito abbiamo molte idee abbiamo il cantiere anche una proposta per Como che è la variante interrata che è una soluzione che potrebbe tornare molto utile perché una serie di gallerie che da Cernobbio vadano fino a Torno e abbiano i collegamenti. No perché è una cosa che ho già sentito anch'io ma scusa Diana ma libro dei sogni o concretezza? No no te lo chiedo ma non perché voglio fare l'avvocato del diavolo perché è giusto che te lo possa chiedere. E' stata appena fatta la variante della tremezzina con è stata spesa. Sono dovuti decine e decine di anni e poi è arrivata. Ecco però da qualche parte No certo certo. No 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 ma assolutamente. Spiega spiega pure. Como ha sicuramente il problema del traffico e quindi credo che sia noto a tutti creare una variante interrata che possa togliere il traffico da Como e permettere un spostamento molto più agevole nel bacino del lago e i collegamenti con l'autostrada sarebbe veramente estremamente vantaggioso e apprezzato credo da tutti i comaschi. Questo è un progetto che il nostro presidente Andrea Brenna ha in cantiere lui è geometra e ha vice sindaco assessorati proprio sulla viabilità. Presidente di democrazia e sussidiarietà. Presidente di democrazia e sussidiarietà. Perché è venuto anche lui a trovarci durante le elezioni. Presidente di democrazia che è già stato qui e ha questo progetto diciamo così lo tiene in caldo perché non siamo monotematici noi siamo proiettati alla difesa della vita come diceva già Mario. Posso dirti una cosa? Da quando ci sono qua i candidati è la prima volta che qualcuno ne parla di questo progetto per questo motivo insomma tutto sommato devo dirti anche un po' di curiosità me l'hai suscitata. Ma dico anche che in effetti è una cosa che ho sentito parlare della quale però ecco allora per quello che ti chiedevo e tu dici no concretezza va bene perfetto. Certo concretezza perché abbiamo cioè la proposta c'è. Certo certo certo. Chiaro che volere potere insomma ci vorrebbero anche un po' di soldi contributi certo. Ma quello poi quando uno è determinato in una certa direzione poi diciamo che trova almeno nella mia esperienza personale di mamma a casa ho dovuto arrangiarmi tante volte ho scoperto. Quando vuoi una cosa alla fine ci vuole esatto la ultima. Ascoltando le esigenze di tutti le difficoltà di molti cerchiamo di andare incontro proprio concretamente con una concretezza. Perfetto allora Diana Varigelletti Marisa se vuoi farlo vedere lo puoi fare vedere anche tu. C'è un po' la luce però ecco sì così la facciamo vedere è sul telefono ok va bene comunque grazie a te. Allora Gian Mario chiudi tu dopo le signore. Io confermo che il presidente Fontana nella coalizione ha avuto un grande occhio di riguardo alla problematica di Como e provincia e quindi questo progetto sulla viabilità che è un'esigenza che nasce anche dalla vocazione turistica di Como che vediamo che sempre di più è l'impegno e l'imprenditoria trainante che abbiamo di questi tempi e che è subentrata a quella vocazione della seta, della tintoria, della lavorazione dei tossicolti e della moda che in passato c'è stato per Como. Quindi ecco l'attenzione grande l'elettorato di Como partecipando corralmente a sostenere Fontana presidente in questa coalizione in cui insieme a tanti progetti di crescita del sociale ma ci sono anche dei progetti solidissimi. Concreti come ho detto con Diana. Concreti, concreti sulla moralità, sulla socialità, sul sociale e sull'etico anche ad ogni livello. Quindi questo è una motivazione che dovrebbe far aumentare in modo esponenziale coloro che non stanno a casa al momento di votare. 12 e 13 andare tutti alle urne perché è l'ora di cambiare ruota e puntare verso i migliori risultati possibili per tutti quanti, a tutti i livelli. Volevi aggiungere qualcosa Marisa? C'è una cosa che noi ci crediamo, ci siamo, abbiamo messo la faccia, il nostro impegno, il nostro sostegno al presidente c'è. Quindi il 12 e il 13 febbraio mi raccomando tutti a votare. Lista Lombardia ideale Fontana presidente. Allora perfetto, grazie ai nostri ospiti, grazie ai tre candidati di questa lista, appunto Lombardia ideale, Brenna, Barigelletti e Cesana che sono stati con noi questa sera. Grazie quindi di aver presentato anche a grandi linee, lo so, lo spazio non è tantissimo, però qualche idea tematica insomma. L'abbiamo suscitato. Sì, esattamente, poi lo vedremo però. Vogliamo una nuova voglia di partecipare all'impegno politico. Benissimo, ci dobbiamo affermare davvero che il tempo è scaduto.